Conte Tacchia è una storia ambientata a Roma nel 1910 riguardante Francesco Puricelli, figlio di un falegname che sogna di diventare parte dell'aristocrazia rappresentata dal principe Terenzi. Tuttavia, deve fare i conti con la dura realtà di una nobiltà romana ormai rozza e decadente. La storia segue il suo amore per Fernanda, una ragazza comune, e la sua infatuazione per la duchessina Elisa, in una serie di situazioni comiche. Dopo aver vinto un duello con un nobile francese, eredita le proprietà, il titolo e i debiti di Terenzi, ma la nobiltà romana non lo accetta a causa delle sue umili origini. Si arruola nell'esercito e partecipa alla campagna di Libia, dove vede l'incompetenza di molti dei suoi superiori. Creduto morto, torna a Roma incognito e vede il suo nome su una targa commemorativa. Poi parte con Fernanda e inizia una nuova vita con lei in America. Grazie per aver visto il nostro video. Non dimenticare di iscriverti anche tu al canale.